Questo doveva essere il Natale di Gianna. È per lei che abbiamo fatto questa sceneggiata! Dove l'avete fatto andare, eh? Le ho chiesto una cosa sola. Ma che fai con la mangi? Non vedi che si è fatto uno schifo? Non avevi detto tu che dovevamo essere comprensivi? Eh, Federico? Lei ha fatto quello che voleva. Ma perché deve essere sempre così con Gianna? Anche quest'anno. Il telefono! Saranno loro! Siamo qua a casa mia. E Andrea ha voluto assolutamente andare via. Ha insistito. E non volevo disturbarmi. Non la voglio mamma qui. Dignelo. Ve l'ho già detto. E Andrea se li prende domani i suoi regali. Io sono... Sono stata molto bene stasera. Solo che... E' solo che sentivo il bisogno di... Di stare qui a casa mia. Vede? Tu smettila con questa storia dei film. Ma cosa credi? Che la vita sia bella come nei film. Ma tu che ne sai? Qualche volta... Qualche volta può essere anche più bella. Ma tu che ne sai? Che una cascata non sai nemmeno che cos'è. Una foresta. Io accetto tutto. Ma questo no. Accetto pure di non passare il Natale con mio figlio. Ma non di essere presa in giro. Ma quando mai Andrea ha voluto andare via prima di aprire i regali? Sono tutti molto scorsi. Cerca di capire. Ma è una vita che stiamo capendo. Che cosa dobbiamo capire? Che abbiamo fatto tutta la figura dei pazzi con Edoardo? Che è una vita che tolleriamo? Che il nostro figlio scimiotta tutto quello che fa sua zia? Che è una cosa che ho faccio. Che il nostro figlio!